Pesaro Assicura SRL, agenzia Unipol Sai, nasce dall'unione di quattro agenzie storiche. 11.400 clienti, 21.000 polizze, 30 professionisti, 5 uffici. Pesaro Assicura si prende cura della tua tranquillità con la forza dei servizi assicurativi Unipol Sai e la competenza e professionalità del suo staff. Vieni a scoprire i nuovi servizi sulla mobilità. Unipol Move, l'alternativa al telepedaggio. Unipol Rental, noleggio lungo termine. Contattaci per un appuntamento telefonico, sul sito o sull'app.